. Eliminato Amici 2018 Seconda puntata Ecco chi ha lasciato la scuola. Chi ha lasciato la scuola di Amici 2018 al termine della seconda puntata di ieri sera 14 aprile. E questa la domanda che si stanno ponendo i tantissimi fan e spettatori del talent show di Maria De Filippi che ieri sera magari non hanno avuto modo di vedere la trasmissione in diretta tv su Canale 5 e che adesso vogliono sapere qual è stato il verdetto finale di questo appuntamento. . Ebbene vi diciamo subito che questa settimana ci sono state ben due eliminazioni dal programma della De Filippi. . Due concorrenti eliminati dal serale di Amici 2018 del 14 aprile. . Nel dettaglio il verdetto finale del pubblico da casa sancito che per la seconda volta consecutiva ad avere la meglio fosse la squadra blu. . Che anche questa settimana ha conquistato la vittoria nella sfida a squadre contro i bianchi i quali sono andati tutti a rischio eliminazione dalla gara. . Tri blu, invece, la vincitrice della puntata che ha avuto l'accesso immediato alla terza puntata è stata la cantante Carmen, rimasta in credola di fronte al verdetto finale del pubblico da casa che l'ha pregnata. . . Chi è stato eliminato dalla seconda puntata del serale di Amici 2018? Il primo ad essere stato giudicato dalla commissione interna della scuola è stato Daniele. . . . . . Tuttavia prima di scoprire il verdetto finale, abbiamo visto che Maria De Filippi ha dato la possibilità a Daniele di esibirsi. . 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